Con oggi si chiude la prima settimana completa di gioco in Major League Baseball, la regular season è cominciata il primo di aprile e dunque è subito tempo per il mio canale di tornare con i video dedicati al meraviglioso gioco del baseball e dunque con i recap dedicati. Quest'anno ho deciso di fare una ricapitolazione per quanto riguarda l'Opening Week a differenza degli altri anni dove facevo semplicemente l'Opening Day, l'Opening Week di fatto per alcune squadre ha già totalizzato 8 partite, alcune un po' di meno però nonostante queste prime partite siano poco indicative c'è comunque tanto di cui parlare in particolare ci concentreremo sulle partite che ha trasmesso Sky Sport Italia e su altre notizie molto interessanti che sono accadute sia in campo, vedi per esempio l'anno hit di Joe Masgrove sia per altre notizie fuori dal campo, vedi per esempio quello che è successo ad Atlanta dove la Major League Baseball ha deciso di togliere lo Star Game alla capitale della Georgia per spostarla a Denver in Colorado ed è infatti con questo che voglio aprire questo appuntamento con la Major League Baseball Review appunto come vediamo i Rockies saranno la squadra che appunto ospiteranno lo Star Game o meglio lo stadio dei Colorado Rockies, il Corsfield sarà appunto teatro dello Star Game 2021, questo perché in Georgia semplicemente c'è stata un'approvazione da parte del Consiglio di una legge che di fatto va a come dire restringere ulteriormente i diritti di voto ad alcune classi, in particolare le meno abbienti e si ipotizza di fatto che appunto sia stata una riduzione della capacità di voto anche alle classi afroamericane, questa cosa non è piaciuta evidentemente anche al Commissioner della MLB Rob Manfred che dunque ha deciso di togliere lo Star Game da Atlanta al Truth Park spostandolo dunque a Denver al Corsfield, ed è un appuntamento che dunque si ripete in Colorado a partire però da diverso tempo perché appunto l'ultimo Star Game fu ospitato nel 1998 anno in cui alcuni giocatori che adesso giocano in MLB addirittura non erano neanche nati, è comunque un segnale forte di unità da parte della Major League Baseball quella di essere sensibili dunque a questi problemi anche politici degli Stati Uniti per dare un segnale forte che la Lega è presente su quelle che possono essere comunque delle restringimenti o delle discriminazioni se lo prendiamo magari un po' più a larga scala. E dunque già questa è la prima significativa notizia che dobbiamo riportare per quanto sia una notizia fuori dal campo. In campo invece che cosa è successo? Qui andiamo a vedere subito le prime classifiche dopo la prima settimana di gioco nella Major League Baseball, in alcune division è tutto secondo pronostico per quanto appunto i power ranking della MLB siano abbastanza poco indicativi soprattutto dopo lo sprint training, in alcune division come per esempio quella che andiamo a parlare adesso ovvero l'American League East qualcosa effettivamente è cambiato perché le tre squadre più attese ovvero i Tampa Bay Rays, i Toronto Blue Jays e i New York Yankees sono rispettivamente terza, quarta e quinta in questa division dove comandano i Boston Red Sox con 5 vittorie e 3 sconfitte e i sorprendenti Baltimore Orioles con 4 vinte e 4 perse. Nei power ranking di tutti gli esperti e effettivamente questa è una cosa che sorprende, Baltimore e Boston dovevano essere al momento pronosticate come quinta e quarta di questa division. Le altre squadre invece dovevano giocarsi il titolo della division e evidentemente l'accesso ai playoff. Certo la prima settimana è ovviamente poco indicativa, ricordiamo che questa stagione è completa e quindi prospetta 162 partite di regular season più eventuali playoff e dunque 8 partite su 162 evidentemente è un campione abbastanza risicato. Comunque è già una sorpresa che appunto Tampa Bay, Toronto e soprattutto gli Yankees siano effettivamente in fondo alla classifica. Toronto e New York che peraltro si sono già affrontate nella prima partita dell'opening day che peraltro ha trasmesso a Sky Sport una partita che ha visto vincitori i canadesi, una partita comunque molto interessante finita al primo inning supplementare, una partita molto chiusa che hanno vinto i Toronto Blue Jays per 3 a 2 e di fatto l'hanno decisa i rilievi sul monte di lancio con una vittoria per Romano per i Blue Jays e la prima sconfitta in Major League in questa stagione per Nelson la va a salvare invece Mary Weather che di fatto è un closer al semi esordio assoluto perché ha esordito lo scorso anno sempre nei Toronto Blue Jays ed era la prima opportunità diciamo di salvezza della stagione e l'ha portata a casa dopo che effettivamente i Toronto Blue Jays erano andati sotto perché il secondo inning era stato quello più produttivo per gli Yankees e di fatto sarà appunto l'ultimo dopodiché con due giri di mazza e di fatto due fuoricampo i Toronto Blue Jays mettono la freccia e sorpassano la formazione di New York i fuoricampo sono appunto arrivati al sesto inning per i Toronto Blue Jays con Teoscar Hernandez uno dei grandi giocatori di questi Toronto Blue Jays al sesto inning su un Garrett Cole che fino a quel momento va a concedere soltanto un punto e poche altre valide anche per via aerea in realtà sono arrivati i punti degli Yankees in particolare il fuoricampo di Gary Sanchez ha messo di fatto i due punti del provvisorio vantaggio dopodiché appunto il fuoricampo di Hernandez ha pareggiato i conti al sesto inning e poi con appunto sfruttando la regola del tie break ovvero con corridore in seconda e zero eliminati arriva la varia decisiva dei Toronto Blue Jays che si portano a casa alla prima vittoria stagionale non saranno tante perché appunto come abbiamo visto i Toronto Blue Jays sono quarti e New York Yankees quinti i New York Yankees che in realtà hanno evidenziato altre difficoltà e lo hanno evidenziato in una partita che Sky Sport ha trasmesso in realtà più di recente quella del Tropicana Field contro i Tampa Bay Rays una partita dove effettivamente Tampa Bay è dimostrato di correggere molti difetti che hanno diciamo caratterizzato l'inizio della stagione della formazione della Florida peraltro questa dimostrazione di forza è arrivata espressamente proprio contro gli Yankees dicevo che i Tampa Bay Rays appunto le prime partite le avevano perse molto male avevano addirittura perso 3 a 0 una serie contro i Boston Red Sox e di fatto prima della partita contro gli Yankees vinta dai race 10 a 5 ne ha vinta soltanto una e invece con due vittorie consecutive adesso il record dei Tampa Bay Rays è 3 vinte e 4 perse questa è una vittoria di forza di attacco 13 valide a 7 per quanto riguarda i Tampa Bay Rays che hanno messo tantissimi punti nella prima fase della partita quindi secondo terzo e quarto inning in particolare segnaliamo il quarto inning come un big inning da 4 punti non serve a niente in realtà il punto all'ottavo inning un fuoricampo di DJ Le Maillet per di fatto accorciare le distanze e comunque concluderla con un bilancio veramente negativo per la formazione del Bronx che faceva esordire in maglia Yankees Corey Kluber grande lanciatore con un passato glorioso ai Cleveland Innes dove sfiorò le World Series poi la stagione scorsa di Texas Rangers di fatto non l'abbiamo visto Kluber è andato agli Yankees ma veramente ha concesso di tutti e di più perché se andiamo a vedere il tabellino proprio di Corey Kluber è due inning, un terzo lanciati 5 valide subite, 5 punti concessi, 3 guadagnati su di lui, 2 basibole e soltanto 3 strikeouts il vincente invece è Richie, uno degli acquisti più importanti dei Tampa Bay Rays Richie è un grande veterano, 41 anni per lui alla prima vittoria con i Tampa Bay Rays i fuoricampo sono stati comunque un fattore in questa partita in particolare gli Yankees avevano messo dei punti sul tabellone con Aaron X e appunto il DJ Le Maillet ne ha fatto un secondo ma ovviamente non ha portato niente a differenza di fuoricampo di X che hanno comunque ribaltato la situazione perché al terzo inning gli Yankees sono andati in vantaggio c'è un altro fuoricampo invece con i Tampa Bay Rays protagonisti Willy Adams al set winning mette di fatto il punto esclamativo sulla partita tutti gli altri punti sono arrivati con un gioco small ball quindi costruito con valide basibole, contatti e ovviamente qualche battuta d'extra base a pulire le basi quando c'erano le occasioni più importanti vedi per esempio le situazioni di basi piene o comunque due corridori in posizione punto sono dei Rays che comunque evidentemente sono diciamo lanciati verso un altro tipo di stagione di alto livello, non è così secondo l'inizio ma ovviamente come ho detto le stagioni soprattutto vanno valutate quelle complete dall'All-Star Game in avanti e ci sta che comunque una squadra parta più a rilento rispetto ad altre vedremo comunque anche nel corso di questa panoramica della Major League Baseball come sia la partita dei pronostici sovvertiti perché soprattutto nella prima giornata abbiamo visto squadre nettamente inferiori che hanno battuto squadre più quotate e tanti lanciatori quotati hanno effettivamente raccolto niente rispetto al potenziale loro e della squadra proseguiamo la nostra disamina della classifica della Major League Baseball con l'American League Central dove avremo ad analizzare un'altra partita e in particolare un giocatore con i Minnesota Twins che comunque diciamo confermano i pronostici della vigilia con 5 vinte e 3 perse seconda posizione per il Cleveland Indians 4 vinte e 3 perse appena dietro ci sono i Chicago White Sox squadra da tenere d'occhio nonostante qualche imputato di troppo vedi per esempio quello di Eloy Jimenez un grande esterno dei Chicago White Sox giovane e molto talentuoso un fuoricampista di primo livello che però sarà fuori per almeno 2-3 mesi in questa stagione regolare chiudono la classifica Kansas City con 3 vinte e 3 perse e i Detroit Tigers con 3 vinte e 5 perse Minnesota e Detroit sono stati i protagonisti di una partita che appunto ha stramesso anche Sky Sport Italia in una partita dove incredibilmente Minnesota ha perso con una squadra di Detroit che ha dato veramente una grandissima prestazione e una grande resistenza a un attacco molto molto esplosivo alla fine si risolve anche in questo caso al primo inning supplementare al decimo con il singolo decisivo di un ragazzo molto interessante che si chiama Akil Badu e andiamo a vederlo subito perché questo è un ragazzo di fatto all'esordio assoluto è un rookie, un classe 1998 di origini ganesi ma ovviamente lui è nato e cresciuto negli Stati Uniti le medie sono assolutamente incredibili con un 313 di media battuta due fuoricampo, 7 RBI ma quello che fa più impressione è che uno dei due fuoricampo è arrivato al primo turno di battuta della carriera di Akil Badu e ci sono stati in 31 giocatori nella storia a fare questo tipo Ray Record quindi già quello è un qualcosa che mette Badu nella storia del gioco il secondo turno in battuta è stato un grande slam addirittura per Badu e poi il terzo giorno che l'abbiamo visto impegnato addirittura è arrivato il walk-off single contro i Minnesota Twins per chi non conoscesse il gioco del baseball il walk-off single è quando la squadra di casa ha l'opportunità di chiudere la partita vincendola con una battuta valida e appunto succede che nel decimo inning Akil Badu batte un singolo nel campo destro il corridore segna il punto decisivo del 4-3 e la partita si chiude con appunto la vittoria dei Detroit Tigers che fino al momento erano addirittura in record positivo 3-22 perse e adesso sono un attimo scivolate in fondo alla division con 5 sconfitte sul loro carniere delle due squadre ovviamente erano in esota quella che doveva e poteva fare di più considerate anche le ambizioni della squadra di Minneapolis-San Paul Detroit è una squadra in completa ricostruzione che però ha qualche elemento su cui puntare in particolare appunto Akil Badu appunto visto le stagioni è meglio i turni di battuta che ha fatto in questo inizio di carriera e poi anche i giocatori di una certa esperienza come per esempio il leggendario Michael Cabrera ma anche i giocatori di complemento che possono dare una mano consistente per esempio Heimer Candelario Detroit però non deve puntare adesso a una stagione di alto livello i Twins invece sì e questa vittoria poteva essere un passo falso per quelli che in realtà sono gli attuali capo classifica della American League Central andiamo invece all'American League West dove effettivamente una mezza sorpresa c'è perché Houston è prima e ce la poteva anche aspettare la formazione texana in prima posizione con 6-23 persi a pari merito però ci sono i sorprendenti Los Angeles Angels dico sorprendenti in positivo perché come ho detto anche nei video di presentazione della Major League Baseball i Los Angeles Angels sono sempre una squadra che costruisce tanto dal punto di vista del mercato anche dal punto di vista dei nomi il core è molto interessante basti pensare che hanno Mike Trout il giocatore più forte dell'era moderna del meraviglioso gioco del baseball hanno Shoaio Tani che è un lanciatore di mestiere ma che sa battere veramente benissimo e infatti gioca anche a battatore segnato e spara fuori la palla con una certa continuità hanno anche Anthony Rendon insomma terza base di primissimo livello Albert Puchols come DH è un giocatore assolutamente che ha fatto la storia di questo sport insomma i nomi ci sono il core c'è manca sempre qualcosa agli Angels per fare una stagione di livello questa partenza è incoraggiante per una squadra che effettivamente ha tante pressioni soprattutto appunto perché ripeto ha in dote Mike Trout il giocatore che all'epoca firmò il contratto più oneroso della storia del gioco la terza posizione dell'American League West la occupa noi Seattle Mariners con un onesto 4-20 e 4 perse Texas è quarta con 3-25 perse ed è stata protagonista della no-hitter subita appunto dai San Diego Padres e chiude Oakland che è partita malissimo e Oakland è una sorpresa in negativo perché ce la si aspettava già subito con una partenza di un certo livello magari a lottarsela subito con Houston invece è una partita assolutamente diciamo al rallentatore con un ultimo posto addirittura con 7 sconfitte su 10 partite passiamo alla National League che di fatto è la conference più competitiva tra le due considerato che di solito in American League ci sono quelle 4-5 squadre che puntano sempre a vincere le altre sono squadre interlocutorie discorso diverso va fatto per la National League soprattutto perché nella National League East nella National League Central ci sono tantissime squadre che se la possono giocare ed è un esempio della National League East in particolare perché c'è tanto equilibrio tra le formazioni ci sono i Philadelphia Phillies che sono primi con 5-20 e 3 perse gli Atlanta Braves sono secondi con 4-20 e 4 perse sono terzi i New York Mets con meno pari di giocate con 2-20 e 3 perse quarta e Miami con 2-20 e 6 perse gli ultimi sono i Washington Nationals con 1-20 e 4 perse New York Mets e Washington per l'inciso hanno delle partite in meno perché la serie iniziale appunto tra Nationals e Mets è stata rimandata per un caso di Covid ha capitato ai membri dello staff dei Washington Nationals che hanno coinvolto anche dei giocatori e dunque la serie è stata rimandata verrà recuperata evidentemente più amanti nella stagione c'è stato già uno scontro importante nella National League East ed era uno scontro importante per i miei New York Mets squadra per cui faccio il tifo contro i Miami Marnes che erano veramente partiti malissimo una squadra che aveva vinto soltanto una partita prima di questa e invece ci troviamo a commentare uno scontro diretto favorevole ai Miami Marnes che vincono 3-0 sfruttando una prestazione suntuosa di un ragazzo che di fatto era l'esordio assoluto ovvero il lanciatore partente Trevor Rogers che conquista la sua prima vittoria seggiunale con questo tabellino ve lo vado a leggere 6 inning lanciati 3 valide concesse 0 punti concessi 2 baseball e 10 strikeout è veramente stata una prestazione sontuosa contro tra l'altro il suo collega di reparto Jacob De Grom che è senza ombra di dubbio considerato il miglior lanciatore del mondo in questo momento e De Grom ha fatto una prestazione da miglior lanciatore del mondo il tabellino è incredibile 8 inning lanciati 5 valide concesse un punto soltanto subito un fuoricampo in particolare del Bahamense Just Chesolm e 14 14 strikeout è guagliato addirittura il record assoluto della carriera di Jacob De Grom che ha fatto veramente una prestazione da Cy Young e purtroppo esce come lanciatore perdente perché lascia all'ottavo inning sul punteggio di 1-0 per i Miami Marlins che poi nell'ultimo inning completano l'opera mettendo altri punti sul tabellone meritando di fatto una vittoria annullando i New York Mets che sono partiti abbastanza sottotono un record appena sotto il 50% di vittorie ma i Mets sono costruiti per fare una stagione di altissimo livello la proprietà è molto solida è stato fatto un investimento pazzesco su Francisco Lindor che tra l'altro ha appena firmato un'estensione di 10 anni a 341 milioni di dollari totali insomma i Mets hanno le capacità e la squadra per arrivare e tornare meglio ai playoff cosa che manca dal 2015 quando arrivarono in fondo alle World Series certo che se le apprezzazioni di De Grom sono queste e l'attacco quando c'è De Grom in campo non scende in campo effettivamente insomma è una partenza a handicap per i New York Mets ed è un peccato che nelle due partite di stagione di Jacob De Grom non ci siano vittorie ci sia soltanto una sconfitta e la media di punti sull'anciatore sia incredibilmente bassa perché 0,64 è una media fantascientifica impossibile da tenere per il resto della stagione ma è una media che significa che effettivamente De Grom è il lanciatore più forte del mondo è un lanciatore di livello assoluto peccato che appunto quando c'era lui sul monte di lancio i Mets si sono dimenticati che per fare i punti bisogna battere e non hanno battuto assolutamente niente Trevide contro i Miami Marlins che sono una squadra assolutamente inferiore dal punto di vista tecnico e sulla carta ovviamente nonostante un'ottima stagione scorsa effettivamente la dice lunga sulla partenza un po' a rilento dei New York Mets che comunque sono appena sotto il 50% di vittorie certo soltanto su 5 partite in ogni caso la stagione anche in questo caso è veramente lunga passiamo alla National League Central a altre divisione assolutamente competitiva dove anche qui però i pronosti sono un attimino andati a carte 48 perché i sensindati Reds sono primi con 6 vinte e 2 perse e io onestamente mi aspettavo altre squadre vedi per esempio i Santos Cardinals o gli stessi Milwaukee Brewers con i Chicago Cubs un pelo sotto Milwaukee e Chicago effettivamente sono a pari merito in terza posizione della divisione con 4 vinte e 4 perse in mezzo c'è St. Louis con 5 vinte e 3 perse anche qui è una divisione molto competitiva eccezione fatta per i Pittsburgh Pirates che da tutti è data come la peggiore squadra della Lega anche qui in totale rifondazione però i Pittsburgh Pirates hanno già avuto delle soddisfazioni interessanti per esempio alla prima partita stagionale hanno vinto 5-3 contro i Chicago Cubs sovvertendo appunto il pronostico della giornata in cui c'è stata appunto una serie di pronostici ovviamente ribaltati scusate ovviamente per l'italiano che è andato un po' a farci bene dire il concetto è che per esempio anche altre squadre che sono più competitive come per esempio i Los Angeles Dodgers hanno avuto i loro problemi i loro grattacapi perché per esempio la prima partita che è stata trasmessa per la National League West anche questa è partitata a Los Angeles Dodgers contro i Colorado Rockies su quadra che dunque tornano protagonisti del mio Major League Baseball Review con appunto la partita del Corsfield una partita che ha visto i Colorado Rockies vincere 8-5 peraltro convincendo e sfruttando una giornata no di Clayton Kershaw che appunto ha giocato ancora una volta all'opening day per la nona volta in carriera e questa volta purtroppo è risultato il lanciatore perdente il tabellino di Clayton Kershaw lo andiamo a vedere 5 inning 2 terzi lanciati addirittura 10 valide subito una prestazione veramente incredibile al contrario però del nostro amico Clayton Kershaw 6 punti subiti 5 guadagnati su di lui con 2 soltanto strike out il vincente invece per quanto riguarda la stormazione del Colorado è Cici Gonzales rilievo che è sceso meglio è salito in campo dopo la prestazione di Herman Marquez 2 inning lanciati per il vincente della partita 5 valide subite 3 punti concessi e 2 strike out non una prestazione di assoluto livello ma sono stati bravi i Colorado Rockies evidentemente a mettere poi tanti punti sul tabellone in particolare al quinto al sesto al settimo 2 punti per ogni ripresa per puntellare il punteggio e portare a caso una vittoria per 8 a 5 la chiude Daniel Bard il closer dei Rockies che è stato anche insegnito l'anno scorso dal comeback player ovvero il premio che viene riservato al giocatore di rientro nella MLB che ha avuto le prestazioni migliori quindi un grande ritorno in pompa magna per Daniel Bard comunque i Colorado Rockies sono una squadra che nella National League West sono tornati un attimo nei ranghi anche loro sono accreditati dai Power Ranking come una squadra in totale rifondazione infatti sono ultimi a 3 vinte e 6 perse sopra di loro ci sono gli Arizona Diamondbacks con di fatto lo stesso record appena sopra ci sono i San Francisco Giants con 5 vinte e 3 perse i San Diego Padres sono secondi a 6 vinte e 3 perse e appena sopra i Los Angeles Dodgers che comunque sono tornati nei ranghi con 7 vinte e 2 perse è ovvio che la National League West sarà un duello a due per Los Angeles Dodgers e San Diego Padres e non solo un duello per la division ma probabilmente anche per i playoff i San Diego Padres peraltro si sono resi incredibilmente protagonisti con una partita sontuosa contro i Texas Rangers si giocava al Globe Live Field di Arlington Texas stadio che ha visto protagoniste anche le World Series dello scorso anno e i tifosi dei Rangers che tra l'altro sono tutti allo stadio perché lo stadio di Arlington ha effettivamente fatto accedere tutti i tifosi nel loro impianto assistito a una presentazione sontuosa di Joe Masgrove che non ha concesso neanche una valida agli avversari e dunque si registra un complete game no hit per i San Diego Padres non solo la no hit è un fatto storico perché non succede spesso ma per i San Diego Padres è a maggior ragione un evento incredibile storico perché è la prima della storia della franchigia e a realizzarla è stata Joe Masgrove che ho già accennato poco fa è un nativo di San Diego è cresciuto a San Diego e ha sempre tifato per i San Diego Padres ed è veramente incredibile come appunto sia un fan du pays a realizzare la prima no hit della storia della franchigia San Diego è una franchigia relativamente giovane nel mondo del baseball che è stata fondata nel 1969 non ha mai vinto un titolo ma quest'anno ha una squadra molto interessante l'anno scorso era chiamata Slam Diego visto la grande quantità di grandi slam che venivano messi sul tabellone questa è la squadra che è stata ulteriormente rinforzata dall'anno scorso ed è una squadra che può dare secondo me figo da torcere ai Los Angeles Dodgers San Diego veramente entra a maggior ragione nella storia con la prima no hit fatta dal nativo di San Diego tra l'altro qui è proprio tutta la storia di Joe Musgrove qui viene specificato per esempio che ha scelto il numero 44 come appunto omaggio a un altro nativo di San Diego che giocò nei Padres che ha fatto due cose discrete in MLB che è Jake Peavy che ha vinto peraltro il titolo con i San Francisco Giants nel 2014 Joe Musgrove è arrivato quest'anno a San Diego in uno dei colpi di mercato della formazione della California insieme ad altri lanciatori sontuosi come per esempio Blake Snell come l'anno scorso Mike Leverger come Hugh Darvish insomma San Diego è stata sicuramente la vincitrice della off-season dal punto di vista del mercato e Joe Musgrove ha mantenuto fede al pronostico appunto di lanciatore di livello che appunto ha contribuito a un qualcosa di storico che appunto non si era mai visto per quanto riguarda i San Diego Padres e dunque abbiamo visto che tutte le squadre MLB con ultima i San Diego Padres con questa grande vittoria sui Tech Strangers hanno almeno ottenuto una no-hitter dispiace anche per un motivo però perché poteva essere addirittura una perfect game la ventiquattresima della storia ma è sfuggita per una base ball concessa l'unica della partita di Musgrove che per il momento aveva fatto una stagione e una partita veramente di livello spaziale ecco la no-hitter di Joe Musgrove che voglio chiudere questo appuntamento con la MLB Review un format di video che non uscirà settimanalmente come i Racing Podcast della Formula 1 vedo di farlo uscire magari una volta al mese in prossimità della fine di ogni mese della stagione regolare per poi avere il clou di questo appuntamento verso settembre-ottobre quando ci saranno veramente le partite che conteranno per poi fare una road to war series come ho fatto negli altri anni io spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e saluto da parte di Meteo Torgaard ci vediamo domenica con il post-gara del Gran Premo di Formula 1 Gran Premo dell'Emilia Romagna e tra lunedì e martedì con il post-gara del Gran Premo di MotoGP che correrà in Portogallo a Portimao